Avete trovato tutte le copie dei libri? No, ne abbiamo comprate solo otto. Vi ha raccontato Laura come sono andate le cose? Sì, ci ha accennato qualcosa, ma ne dobbiamo ancora parlare più tardi. Quanti chili di mele avete colto? Ne abbiamo colti quattro chili. Luca, fino a quando sei rimasto alla festa? Me ne sono andato poco dopo le dieci. Siete già andati alla spiaggia? No, non ci siamo ancora andati. Sai se Marco ha comprato i biglietti per l'aereo? No, non ne ha avuto il tempo. Ci penserò comunque io. Hai sentito quello che ha detto Miriam? No, qui c'è tanto rumore. Ripetilo tu, per favore. Quando vi siete conosciuti, tu e Domenico? Ci siamo visti per la prima volta in settembre. Lori, ma non dovevate andare all'estero quest'estate? Dovevamo farlo, ma poi non ci siamo riusciti. Quando vieni a casa mia? Ci vengo domani sera, dopo cena, va bene? Hai comprato le cartoline da spedire ai nostri insegnanti? Purtroppo ce n'era solo una. Ne compreremo altre tre dal tabaccaio. Hai spedito gli inviti per la festa? Sì, ne ho spediti già più di venti. Sì, ne ho spedito gli inviti per la festa? Sì, ne ho spedito gli inviti per la festa? Sì, ne ho spedito gli inviti per la festa? Sì, ne ho spedito gli inviti per la festa? Sì, ne ho spedito gli inviti per la festa? Sì, ne ho spedito gli inviti per la festa?